e l'hai fatto tutto impennato io non ho appoggiato però quello la appoggiava però è andata via tranquilla, vedi come è andata via morbida eh si dopo se volete perché io ho un po' paura dai ero tranquillo, privo invece tu si sconfogli dopo hai fatica a fare non che fai fatica, lo fai però no no però arrivo tranquillo, sei più dritto eh adesso l'hai fatto bene vado su a prenderti vuoi che vado su no vedi come va via si si l'hai fatto come niente vado su, vado su dietro bravo Luigi se vuoi vado su e se vuoi tentare come la no non mi faccio male saluta vai vai Luigi succedere, vado su non c'è non si se riesce a tenere sul davanti viene bene tu puoi poi escerne se c'è l'idea di esclare si si ragazzi ma che volta ti fa vedere come si fa è più latini alta e... poi rimani un po' pro, rimane un po' peso vai ladrini un po' tu attaccato attaccato un po' più tranquillo si un po' più di gambe si 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 se andiamo sotto a prenderlo che lo faccia lui non è più qua lì no io non ti prendo come no?